Ciao a tutti e grazie per aver cliccato sul mio canale. Oggi vi parlo del mio grande amore, il mondo delle moto, adoro i motori in generale ma ho iniziato con le moto, vi parlerò non di un Harley, non di una Buel, non di un'americana ma di una giapponese, in questo caso è una ormai datata Kawasaki R6N, è una bicilindrica fronte marcia, 650cc di cilindrata, tanta coppia ai bassi, molto maneggevole, stretta, è un buon compromesso ciclistico anche in base alla spesa iniziale di questo mezzo, devo dire che è una moto che non è stata molto apprezzata, negli anni di produzione dal 2005 al 2009, sono stati venduti molti modelli, sì, però sul mercato non hanno avuto un grande peso, anche se è una moto molto divertente. In questo modello che vi faccio vedere è stato modificato il codino, il telaietto del codino, è stata sfruttata la vecchia serratura originale, per poter montare questo codino Cafe Racer Old School, cupolino stesso modello, stessa serie Cafe Racer, poi magari vi linkerò in descrizione i modelli che sono stati acquistati su internet, in rete, per poterli magari acquistare e montare sulla vostra moto. Non è stata una modifica molto semplice, però devo dire che nemmeno molto difficile. Abbiamo recuperato molto dei vecchi tubolari del telaio, quindi non abbiamo sacrificato la robustezza del codino e del telaio. Nuovo portatarga, ora ve la mostro e spero che vi piaccia. Comunque non è terminata, questa è solo un'anticipazione, sono state fatte modifiche a grandi linee per codino e cupolino. Ora vi farò vedere che tipologia di faro verrà montata su questo cupolino, il perché della scelta e anche come verrà sistemato il tutto. Ecco la nostra R6N, versione Cafe Racer, spogliata di tutto il superfluo. Ecco qui il codino Cafe Racer con la lunetta portanumero laterale. stop a led, vediamo se riesco a mostrarveli, eccoli, stop a led, fumè, targa, messa sulla ruota con questo portatarga, luce targa. pedane posteriori, il guidatore sono rimaste le stesse, che erano molto carine. Il proprietario ha fatto riverniciare il supporto in alluminio, in un nero lucido, in modo da eliminare un po' quel ingombro visivo che aveva il vecchio grigio. è stato rifatto tutti e due i carter in nero, in modo da perdersi un po' nel resto della moto. Come vedete, adesso non danno più quel colpo d'occhio di pesantezza del grigio originale. Anzi, risalta di più il telaio rosso candy, che in questo punto è stato modificato. Vedete, l'originale arrivava fino qui, eccoci, arrivava fino qui, continuando verso il retro per alloggiare, per supportare il vecchio cupolino. È stato tagliato, piegato all'interno, è stato fatto a punta, è stato fatto a punta verso il retro della moto, per poter alloggiare questo nuovo codino, aftermarket e le luci stop. Serbatoio originale, la sella è ancora da definire, ed ecco il nostro cupolino cafferese. Semi manubrio, un pezzo unico, anche questo qui acquistato in rete. La strumentazione verrà montata in seguito, per adesso vi faccio vedere, vi mostro il faro che abbiamo scelto. Ecco i due modelli di faro prescelti per il montaggio. A sinistra abbiamo il classico faro a led da 7 pollici, adesso è pieno di fango perché l'ho recuperato in prestito dalla mia Jeep. Questo tipo di faro monta su Land Rover, Jeep, Patrol, o comunque tutti fuoristrada, auto che hanno fari da 7 pollici. A livello motociclistico montano su Buel prime serie, cioè tubi a traliccio, con telaio tubi a traliccio, M1, M2, S1 e X1, ed M2. E montano anche sui Ducati Monster prima serie, sia i 600, sia i 750, sia i 900. Bene, qui invece abbiamo l'altro faro. Questo qui è un po' più economico. Qui ha dei bruttissimi rivetti ad espansione, che nella plastica non hanno un'ottima presa. filettati M8. In un primo momento, qui era stata richiesta una modifica perché nell'alloggiamento che aveva, qui c'era il blocchetto d'accensione della ER6N. Dato che andava a collidere con questa parte, con questa curva del faro, abbiamo fuso con il phon la parte di plastica che dava fastidio, e l'abbiamo mandata dall'interno per poter recuperare un po' di spazio, vedete? Non so se si vede a contrasto. Ecco. Purtroppo, essendo molto economico, ha fatto una brutta fine. Erano stati messi due strisce di nastro nero, per andare in pista, e purtroppo con il calore ha fuso tutto. Sì, parabola in plastica, come quella LED, ma parabola in plastica con l'H4 non è consigliabile, quindi i nostri cinesi hanno progettato male questo faro. Lo sconsiglio vivamente, è carino, ha le luci a LED, ha una buona lampadina H4, però è da sconsigliare vivamente. Ecco qui, cupolino fumé smontato. Non è in vetro resina, è in PVC in plastica. In questa parte c'è un taglio, come potete vedere, e plastica. E' molto flessibile, facilmente adattabile, compreso di kit viti e di cupolino. Andiamo a provare il nostro faro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.